Ciao a tutti rega, io sono Xavix Oggi vi ho portato un glitch per fare i completi moddati Faremo tutti i colori dei jokers e qualcosa di particolare Allora, per iniziare questo glitch dovete prendere il personaggio donna E riempire tutti i slot per i completi con il completo la chica Ovviamente perderete i completi già sul primo personaggio Dopodiché andate al menu del cambio personaggio E quando siete qua Prendete il secondo personaggio E se è donna lo fate diventare uomo Ovviamente io consiglio di passare il rango Così almeno avete già alcuni completi sbloccati Con i vestiti Una volta spawnati in sessione col personaggio maschio Andate in un qualsiasi negozio di vestiti Non è importante quale E iniziate a copiare Tutto quello che ho fatto Tutti i completi Quindi andate su pantaloncini E andate sui boxer E mettete il primo boxer Quello maculato Numero 9 Poi il numero a volte cambia Quindi guardate bene Tanto la clip è fatta Molto lentamente Quindi avete il tempo per vedere tutti I vari completi I can see you wearing that There you go Thank you Andate in un po' Andate in un po' Take as long as you like Andate in un po' Andate in un po' Andate in un po' That'll look great on you Andate in un po' 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti